la campagna elettorale io credo che l'accordo c'era le mobilitazioni che si stanno mettendo in campo nel paese sono forti il governo sta in un'opposizione forte, anche vincente di cui ne voglio citare solo due delle quali credo siamo stati anche protagonisti come città di Napoli penso alla questione porti aperti e la questione autonomie il Movimento 5 Stelle perde voti in maniera considerevole settimana dopo settimana la vicenda dell'Abruzzo è l'ultima ma anche quello che si sta avvenendo sui territori numerosi consiglieri comunali, portavoci che escono dal Movimento le elezioni europee si avvicinano quindi credo che sarebbe stata veramente una follia politica per il Movimento 5 Stelle mettere in queste ore una firma sotto a quel disegno di legge però io invece credo che loro andranno avanti perché quello è un punto centrale del contratto di governo quindi adesso credo che sia un po' quella questione da campagna elettorale dai distinguo che devono fare dove troveranno degli equilibri reciproci e dei veti incrociati cioè io ti lascio passare questo tu mi lasci passare quello per poi ritrovarsi se vogliono continuare a stare insieme quindi penso questo se questo governo va avanti questa esperienza parlamentare e governativa va avanti con quel contratto di governo questa autonomia differenziata questo Parlamento e questo governo la faranno dopo le elezioni se invece dovesse entrare in crisi perché il Movimento 5 Stelle dovesse cominciare a rendersi conto che quel contratto sta erodendo consensi su tante questioni e soprattutto sulla questione meridionale dove la Lega è sempre Lega Nord in dipendenza per la Padania non ce lo dimentichiamo e con la sua coerenza tra virgolette sta andando anche avanti quindi credo che questa questione del rallentamento sia molto una tattica legata alla vicenda delle europee questo per quanto riguarda i parlamentari e gli altri poi invece credo che nella base tra i militanti eccetera ci sta invece una volontà importante di interrompere definitivamente questo processo di autonomia secessionista è quindi questo per quanto riguarda i tutelare di servizio e alle mole di servizio attrazione